Per quanto riguarda l'innovazione, IAM Design si è sempre impegnata per essere un passo avanti rispetto al mercato, quindi ha sempre guardato al futuro, sia nella ricerca della sicurezza per dei prodotti che sviluppiamo, sia nella ricerca della funzionalità per l'installazione, per l'installatore, ma anche perché i prodotti siano il più possibile coerenti con un'architettura contemporanea. Tutti i prodotti IAM Design, come gli altri prodotti del gruppo Gonzato, sono sviluppati seguendo una logica di sostenibilità, sono reciclabili al 100%, infatti sono fatti per lo più di metallo che si può riciclare per sua natura e di vetro. Grazie alla collaborazione con molti studi di architettura italiani e anche stranieri, siamo sempre all'avanguardia nella ricerca estetica dei nostri prodotti e del bello fondamentalmente, in modo tale che i prodotti siano il più contemporanei possibile, adatti a un'architettura moderna e soprattutto rivolti al futuro.